De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. In tilt da giorni presso la sede dell'Asd, la cassa automatica per il pagamento del ticket esplode la rabbia degli utenti che sono venuti a pagare la prestazione tramite un baglia presso gli uffici postali o a recarsi in farmacia. In effetti questo è un compito di chi organizza, la direttrice, il direttore dell'ENTO. Praticamente io sono andato già due o tre volte, una volta per fare un'analisi, una volta per quanto riguardava la vista degli occhi. Praticamente dovevo pagare il ticket di 5 euro, con tutta la mia buona volontà volevo pagare. Però mi hanno mandato alla farmacia, alla farmacia teneva gente, ha detto che non c'era. E io, povero Cristo, non posso andare a, eppure altre persone, a andare a, diciamo, a tanta parte per pagare un'autichetta. Ma per quale ragione non lo aggiustano? Va a la farmacia e va a pagare un'autichetta. Da che doveva prenotare? Una visita di abitolo. Normalmente io pago la... sono esente perché sono esente, però sono 5 euro, invece di 5-6. Per me che? Il pozzo di paese ci sono quelli che non ce la fanno. Ma mi dici, come hanno fatto a pagare i soldi per pagare il paese? Teneva 3 euro. È una cosa fatta bene. Ma non lo si sa se è quasi o non funziona, perché anche a Monteforte non funziona. Quindi io comunque ho fatto un reclamo, perché giustamente gli anziani è molto difficile, diciamo, andare alla posta a fare bollettine, perché chi non sa scrivere, oppure anziani non ci vede. E doveva prenotare una visita? No, sono prenotato. Solamente per fare la visita uno deve pagare il ticket. E quindi qua non si paga, si deve andare o alla posta o alla farmacia. Insomma, non mica è corretto. Grazie. 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 Grazie.